Sì, sarei assolutamente favorevole ad una rivolta nazionale, fermo restando che rivolta nazionale o protesta o dire che vogliamo essere liberi e che rivolgiamo la nostra libertà non vuol dire che non bisogna stare attenti a non beccarsi il virus. È verissimo che il virus uccide in un 0,00 dei casi, ma è sempre meglio non prenderselo. Quindi, attività in sicurezza, fare tutto in sicurezza, vivere in sicurezza, con dei protocolli stabiliti da un governo che siccome non ti può curare perché la sanità è allo sfascio, siccome non è in grado di proteggerti, ti chiude. Negli altri paesi sono in grado di proteggere i propri cittadini e quindi non chiudono. Il discorso è molto semplice. Mio nonno è caduto e si è rotto la spalla. Mi spiace per il nonno. In ospedale gli hanno fatto quattro tamponi in 48 ore di degenza. Ma tu capisci ogni tampone quanto costa? Ragazzi, c'è un giro di miliardi dietro ai tamponi che se finisce l'emergenza finisce il giro di miliardi. Allora, è verissimo che ci sono dei pericoli, ma è anche vero che c'è chi su questi pericoli si sta mangiando l'impossibile. Quali sono secondo te i principi della vendita? Tanto principi si scrive con due i. Ma perché dovrei saperlo? Non lo so, non mi sono mai occupato di vendita. L'uomo è l'unica salvezza per l'umanità. L'uomo è l'unica salvezza per se stesso e per la propria specie. E se Dio, Gesù, Buddha, Allah sono dentro di noi, siamo noi. Grazie infinite. Grazie un abbraccio. Grazie mille. Sei molto gentile, Rosario. Grazie infinite. Grazie mille. Grazie sempre a tutti. Ma infatti li indosso. Infatti spesso ho dei cappelli. Tra l'altro sono stato anche testimonial per una importante firma di di cappelli qualche tempo fa. E li indosso regolarmente. Viva la libertà. Viva la libertà. Viva la libertà. Eh, ma i contagi. Ragazzi, Draghi e Conte sono due facce della stessa medaglia. Entrambi devono distruggere l'Italia. Uno ha cominciato l'attività e devo dire che è stato abbastanza come Attila dove è passato lui. Diciamo che l'erba non è quasi più cresciuta. Quest'altro deve finire di svenderci all'Europa deve svolgere il suo compito. Questo è. Il parere di noi cittadini non conta nulla. Dovunque hanno votato. In Italia il Presidente della Repubblica ha chiaramente detto che qua non si vota. Non si può votare. Adducendo chiaramente scuse che se fossero valse per l'Italia sarebbero valse anche per gli altri paesi. Quindi è assolutamente evidente che sono scuse. Il popolo non conta niente e quindi di conseguenza questo è. Ringrazio infinitamente. Grazie infinite. Sei molto gentile e intenso. È un bellissimo complimento. Grazie. Grazie veramente tanto. Lillium mi sta dando soddisfazioni enormi. Eh sì, è molto triste vedere che in Italia non c'è la volontà, secondo me, a questo punto di farci uscire dalla tragedia. È evidente, no? Negli altri paesi campagne vaccinali velocissime, libertà non messe in discussione. Si vede in Spagna escono, vanno in palestra. La campagna vaccinale è ancora in corso, ma nel frattempo vivono, voglio dire. Non è che stanno segregati e chiusi in casa. I bambini giocano nei parchi in Svizzera. Ci sono paesi in cui se ne fottono altamente, come in Svezia, come in Bulgaria, come in Albania, come nel Montenegro, dove non c'è alcuna restrizione, dove continuano tranquillamente le campagne vaccinali, perché non è che lì il Covid non c'è. Però comunque lo vivono in maniera più serena degli italiani. Può darsi che abbiano una sanità più attenta, più capiente, più giusta, più attenta e quindi hanno meno paura di morire di noi. L'Italia si è dimostrata veramente in questa tragedia mondiale, perché sicuramente è una tragedia mondiale, l'Italia si è dimostrata veramente un paese dal punto di vista proprio gestionale, veramente neanche il terzo mondo, neanche la Nigeria, neanche il Congo belga, neanche il Benin. Cioè siamo veramente il peggio del peggio ed è molto triste, veramente molto triste. La gente che ti urla in strada se tu non hai la mascherina abbassata perché sei da solo, non hai nessuno intorno e magari sei pure sul mare dove c'è un po' di vento, è chiaro che è gente lobotomizzata, è gente che sta male, sono poverini che noi non recupereremo più, povera gente che andrà curata psicologicamente, c'è gente che quando tutto questo sarà terminato, tra anni e anni, se non si inventano qualche altra variante, è gente che vorrà rimanere chiusa in casa, ma come mi togliete la mascherina, ma come mi fate uscire? Non sono meglio blu, viola, forse rossi, gialli, verdi, azzurri, viola, forse rossi, gialli, tu dici rosa, no forse, forse mai... Uh, faresti Medea, madonna, sì che la farei. Io credo che in Italia un maschio, solo un maschio abbia fatto Medea e sia Franco Branciaroli, credo che ce ne sia una sola versione di Medea. Mi piacerebbe molto fare Medea, sarebbe molto bello, io tra l'altro avevo avuto un'idea su una Medea, ma purtroppo non ho trovato ancora la produzione, però mi ha fatto venire in mente che devo parlare con una persona. Quando spieghi il business in Zoom? Spieghiamo in continuazione, non riesco mai a beccare il giorno giusto, forse non ti sei informato adeguatamente. Martedì sera alle 21 e 30 in italiano, giovedì sera alle 21 in inglese, venerdì 21 e 30 in italiano, poi su YouTube c'è la spiegazione in francese, insomma. Spieghiamo il business tutti i santi giorni e se non ci sono io ci sono i leader miei colleghi che sono assolutamente straordinari. Assolutamente no, non sono mancino.